è sempre paradossale, surreale, ma in questo momento in pieno mondiale si parla di Juve qualcuno le seguirà le partite dei mondiali oggi, mi sembra di essere l'unico scemo del villaggio qua a parlare dei mondiali insieme a pochi altri, almeno qualcuno mi fa compagnia ma davvero sembra che l'interesse sia concentrato sulla Juve la Juventus dal punto di vista mediatico è innegabile, fa senza ombre di dubbio gola e oggi poi sono usciti scoop, clamorosi retroscena, questa inchiesta che sembra sempre di più ingrossarsi ha parlato anche, se non sbaglio era un evento a Napoli, il presidente Gravina della federazione e sono uscite cose abbastanza interessanti, almeno sono contento, questo lo dico subito che abbia risposto a quelli della Lega Spagnola perché farci prendere a pesci in faccia da quelli là che francamente hanno fatto tutte le peggiore meglio tacere, meglio tacere, ma quello che è accaduto al Barcellona l'hanno cercato in qualche modo di risollevare in tutti i modi proponendo gli accordi lasciamo stare, ci arriviamo se volete prima come al solito invito a lasciare un like a iscrivervi al canale per seguire i prossimi contenuti perché so che magari non vi interessa ma io le partite mondiali le seguirò comunque e quindi ci becchiamo dopo se volete ma se invece a voi interessa soltanto il risultatino sapere chi si è qualificato i gironi la differenza dei tip punti se volete essere aggiornati su una squadra piuttosto che un'altra sapete che è personalizzabile per cui è anche gratuita ragazzi chi non l'ha fatta ancora ma c'è veramente qualcuno che non ha OneFootball? se c'è qualcuno io vi propongo il link in descrizione ho qui QR code per scaricarla subito e velocemente e gratuitamente e basta Neschi basta per favore basta allora sul discorso dell'inchiesta io lo sapete bene non mi addentro in questioni anzi sul discorso dell'inchiesta io posso posso subito proporvi quello che che ha detto Gravina perché perché da questo punto di vista quello che dice è interessante sull'intagine aperta a carico della Iwenz dice abbiamo aperto un fascicolo per verificare l'esistenza di eventuali reati sono contrario ai linciaggi di piazza stiamo calmi perché temo che quel problema possa riguardare anche altri soggetti appena l'ho sentita sta roba temo che possa riguardare mi è sembrato anche detto in maniera ignorante detto in maniera atterraterra mi è sembrato anche è tutto magna magna poi alla fine voi non lo sapete io lo so mi è sembrata messa un po' un po' così invece ritornando seri potrebbe stare anche a significare che ci saranno verranno fuori magari altre situazioni che coinvolgeranno altre squadre come abbiamo visto anche passato legata al discorso soprattutto plus valenze fettizie dove forse nessuna vera società era isenta da colpe ma sappiamo che non c'è nessun parametro per valutare il valore del giocatore quindi tutto finisce in una bolla e una bolla di sapone la porta gentilmente unicamente vi chiedo sta gentilezza della porta e soprattutto di non far casino un attimo perdonate ragazzi perdonate a quest'ora veramente non riesco ad offrirvi un contenuto grazie un contenuto pacato tranquillo perdonatemi ecco dicevo che cazzo diceva e questo è proprio che stavo dicendo che magari potrebbero saltare fuori altre situazioni noi siamo qui per aggiornarci come ha fatto sapere lo stesso Gravine siamo abituati un po' troppo a condannare subito ci sono delle indagini vediamo finché una squadra non viene condannata non viene assolta è inutile parlare cioè possiamo possiamo fare noti possiamo fare informazioni però questo non è un canale dove siamo esperti di finanza dove siamo esperti da questo punto di vista allora è meglio è meglio tacere e aspettare andiamo invece a parlare di altre cose sempre interessanti perché ripeto l'altra cosa interessante è la risposta che ha dato allora qua cosa ha detto ah poi precisa gravina il tema che questo argomento può riguardare altri club non è riferito all'indagine in corso sulla Juventus ma ad una reazione esasperata che in Italia in generale rende colpevole chi ancora non è stato condannato ecco una 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 precisazione importante che comunque va 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 riportata a onor a onor di cronaca le altre cose che più mi interessavano avevo se non sbaglio avevo salvato anche quella che riguardava che riguardava la Liga Spagnola dove gli diceva guardate in casa vostra ora non la trovo più come al solito io mi perdo però credo basta andate scrivete gravina Liga e per le rime sapete come ha risposto ed è giusto che ed è giusto che non le abbiamo andato a dire anche perché ragazzi oggi sento sento dire l'evento senza il B tutte ste cazzate qua penalizzazione e altro ma sappiamo bene che il calcio di oggi è veramente veramente in difficoltà e quindi che come è stato nella Liga il Barcellona che hanno fatto hanno trovato qualsiasi accordo pur di fargli fare quello che voleva perché una squadra come il Barcellona regge regge il campionato spagnolo lo regge il campionato italiano peggio ancora siamo ancora almeno quanto loro in difficoltà voi già dovete sapere no questo è un discorso che facciamo proprio terra terra da ignorantelli che a me piace parlare così da ignorantelli perché sono ignoranti semplicemente ma voi pensate che abbia dei benefici e mi riferiscono a Gravina che giustamente fa il politico in questo momento abbia dei benefici mandare la Juventus in B no proprio ragionando per eccesso non ha dei benefici perché già la Serie A non è vista quindi figuriamoci se mandano in B la squadra la squadra che ha più tifosi in Italia che è quella che raccoglie un bacino più ampio sia dal punto di vista dei diritti TV e altro quindi fate un po' voi giusto per parlare da ignoranti ed è il motivo per il quale in Spagna cercano di difendere squadre come il Barcellona come 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 il Real Madrid e in Italia le squadre top in qualche modo non pensate che non pensate che vengano in qualche modo abbattute con così facilità e soprattutto soprattutto andiamo andiamo avanti dopo dopo questa parentesi ignorante andiamo su un altro retroscena che mi è piaciuto quello legato a ad Allegri che pare questo l'ha svelato la gazzetta pare che insieme a Cherubini appena ha presa la notizia dallo stesso Agnelli della dimissione in blocco Allegri così come il direttore sportivo Cherubini che invece sono rimasti pare che avevano almeno verbalmente rassegnato le proprie dimissioni questo devo dire la verità devo dire la verità per quanto possa sembrare non lo so forzato o meno chi lascia chi lascia nel mondo di oggi chi lascia il denaro chi lascia la carica ricoperta bella serena tranquilla per me ha sempre per me ha sempre un merito assolutamente un attestato di stima da parte da parte mia quindi io questo lo devo lo devo assolutamente dire perché le avrebbero assegnate molto semplice secondo me perché adesso ovviamente Allegri non dico che sia con le spalle al muro ma di certo non è coperto come prima perché Allegri è un uomo di agnelli e quindi se ricopriva la carica di allenatore dell'Aventus è stato quasi unicamente solo per volere dello stesso presidente che ha detto io rivolgo Allegri lo metto là c'è amicizia ma più che altro c'è stima dal punto di vista professionale quindi lo rimetto lo rimetto lì e nel momento in cui viene meno tutto il blocco il blocco Juve chi lo ha voluto lì in questo momento lo stesso Allegri sa che comunque è una posizione che secondo me scricchiola è vero che adesso si dice leggendo sui giornali no ricoprirà ancora un ruolo più importante Allegri perché adesso lui è quello che c'era prima quindi deve fare un pochettino da come posso dire deve andare un po' a legare la vecchia con la nuova Juventus vedremo io credo che adesso da qui a fine stagione si tireranno le somme se lui come stiamo vedendo nelle ultime partite come avevamo visto nelle ultime partite porta a casa risultati medio buoni allora sì altrimenti io vedo un Allegri meno meno sicuro come la vogliono raccontare oggi meno tranquillo di mantenere di mantenere il posto ma attenzione come dico prima le dimissioni significa che tu lasci il contratto che avevi firmato dei bei soldini che ti portavi a casa vuol dire che tu li lasci tutti quindi al di là di questi miei ragionamenti che restano solo miei ragionamenti il gesto di Allegri così come quello di Cherubini secondo me è un gesto che al giorno d'oggi va sempre comunque valutato con un occhio di riguardo va bene ragazzi mi sono anche dilungato troppo fatemi sapere cosa ne pensate voi della dichiarazione di Gravini appunto magari se volete voi addentrarvi sull'inchiesta perché sicuramente ne sapete più di me se volete parlare di Allegri se volete parlare di quello che vi pare sotto nei commenti detto ciò buon mondiale un grande abbraccio Taneschi iscriviti al canale Grazie a tutti.